che calcolando il totale sono ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi mi farete letteralmente i conti in tasca ebbene si perchè a grandissima richiesta oggi vi faccio il video su tutte le spese che ho qui ad Amsterdam come sapete sono quasi 3 anni ormai che abito qui ci ho abitato 5 anni in passato e adesso appunto sono quasi passati 3 anni che sono di nuovo qui visto che ricevo sempre tantissime domande sulla vita nei Paesi Bassi sulla vita ad Amsterdam, il costo della vita qui ho deciso di farvi questo video aggiornato ve l'avevo fatto un paio di anni fa ma abitavo in un'altra città dell'Olanda qui i costi sono diversi e nel frattempo sono anche aumentati quindi vediamo assieme esattamente quali sono le mie spese mensili qui ad Amsterdam direi di iniziare dalle bollette allora per quanto riguarda luce e gas ho un contratto unico e si paga mensilmente in Italia mi sa che molte cose le pagavo a bimestre adesso non so se è più così o se anche in Italia è cambiato perché mi sa di sì comunque qui appunto ho un contratto unico per quanto riguarda luce e gas e pago mensilmente 345 euro indipendentemente da quanto spendo ho questo costo fisso ma c'è da dire che siccome il prezzo del gas lo sappiamo tutti ormai è salito molto il governo olandese effettuerà un bonifico al mese di 190 euro a tutte le persone che hanno un abbonamento del gas quindi appunto da questi 345 per il momento per i prossimi mesi mi sembra almeno per due mesi poi non so in futuro come faranno ma appunto per quanto riguarda il gas da questa somma ci sarebbe da sottrarre 190 euro perché appunto questa è stata una manovra di governo per aiutare le persone residenti in Olanda ad attutire un po' diciamo i costi del gas che appunto sono aumentati moltissimo naturalmente non solo in Italia ma anche qui per quanto riguarda invece l'acqua qui ho un altro abbonamento anche qui pago mensilmente ed è una cifra fissa indipendentemente da quanta acqua consumo e la cifra fissa è di 15 euro al mese quindi questo è tutto quello che spendo per l'acqua mensilmente questo è un contratto a parte con un'altra azienda non la stessa appunto della luce e del gas altro costo che in pochi prendono in considerazione quando vogliono trasferirsi nei paesi bassi qui la sanità è completamente diversa rispetto a quella italiana ed è molto più simile a quella degli Stati Uniti ovvero qui c'è bisogno di assicurazione sanitaria che è obbligatoria a differenza degli Stati Uniti in cui invece si può scegliere se farla oppure no qui è obbligatoria e io pago 119 euro virgola 25 volevo essere precisa 119 euro virgola 25 al mese avendo scelto l'assicurazione basilare c'è anche quella plus per chi ha dei problemi insomma particolari di salute che quindi ha bisogno di cure mediche più frequenti io ho preso quella base la minima e questo appunto il prezzo che pago mensilmente da calcolare però che se ho bisogno di cure mediche fino ad un prezzo di 385 euro le spese sono a carico mio dai 385 euro in su mi paga tutto l'assicurazione sanitaria quindi quando ho avuto il problema al piede ad esempio ho dovuto pagare 385 euro per le visite le risonanze le radiografie il tutore che mi è stato fornito dall'ospedale appunto fino ai 385 euro da lì in su è stato poi tutto soldato dall'assicurazione per quanto mi riguarda per mia esperienza personale e anche per le esperienze delle mie amiche delle persone che conosco il nostro servizio sanitario nazionale italiano è molto meglio rispetto al servizio sanitario olandese non che sia la cosa peggiore al mondo qui ma decisamente in italia la sanità è molto meglio poi connessione internet internet fisso a casa allora qui ragazzi in confronto a trieste naturalmente se abitate a milano roma sarete abituati alla fibra ottica è una velocità di internet smisurata per quanto mi riguarda trieste avevo sì comunque una connessione veloce ma non era di certo una fibra ottica cosa che invece ho qui in centro ad amsterdam e sono molto molto contenta carico i video in pochissimi minuti quasi secondi a volte ed ho internet velocissimo sia in download che in upload perché a me serve moltissimo l'upload visto che sono una creatrice di contenuti devo caricarne molti su internet e quindi per quanto mi riguarda è molto importante l'upload più che il download il costo di internet è di 35 euro mensile anche qua si paga mensilmente internet e anche qui è un costo fisso mensile quindi pago sempre 35 euro devo dire che in italia avevo sempre molti problemi con la connessione internet che veniva andava a volte era lentissimo non si capiva dovevo sempre chiamare qui non ho mai avuto un problema una volta soltanto mi è capitato siamo rimasti tutto l'edificio rimasto senza connessione internet per tipo tre giorni ma telefonando al servizio clienti ho potuto chiedere il rimborso perché se per 24 ore o più siamo senza connessione internet chiunque nei paesi bassi si può chiedere il rimborso quindi io sono stata rimborsata di tre giorni nella bolletta mi hanno tolto tre giorni appunto dal pagamento che gli dovevo giustamente poi internet dal cellulare quindi connessione internet mobile anche qui ho una scheda olandese quindi ho fatto un abbonamento olandese qui nessuno ha un numero ricaricabile praticamente non ho mai visto né sentito parlare di persone che ricaricano il cellulare come invece è cosa normalissima cioè da noi si fa sempre almeno io l'ho sempre fatto io non ho un costo fisso dipende molto da quanto spendo in quel dato mese e molto spesso visto che viaggio tanto e spesso anche fuori dal continente europeo tipo a settembre lo sapete sono stata alle Maldive passando per Abu Dhabi e connettendomi ad Abu Dhabi perché non mi connetto mai a reti gratuite che trovo in giro è troppo pericoloso quindi utilizzando la rete dati internet insomma sia ad Abu Dhabi che alle Maldive ho speso ad esempio a settembre 80 euro ma appunto perché io ho utilizzato dati all'estero quindi in realtà dipende tantissimo il mese precedente mi sembra ne avevo spesi tipo 35 una cosa del genere quindi varia a seconda di quanto lo utilizzo io e appunto utilizzo tanti dati visto il mio lavoro e dipende anche naturalmente da quante telefonate faccio e ricevo quando sono all'estero perché anche qui le telefonate naturalmente hanno un costo diverso e hanno un costo anche se le ricevi quando sei fuori dall'unione europea quindi questo è difficile dirvi esattamente quanto pago mensilmente perché varia tantissimo diciamo dai 30-35 di solito ai 60-65 euro più o meno indicativamente però appunto uso veramente tanti 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 dati sul cellulare poi spesa al supermercato quanto spendo mensilmente allora sono andata a controllare vi devo dire che rispetto a qualche anno fa hanno aumentato un pochino i prezzi nel supermercato calcolando quanto ho speso nell'ultima spesa che ho fatto al supermercato che tra l'altro è la spesa che avete visto nell'ultimo slot è la spesa quindi mi avete chiesto di dirvi quanto spendo ogni volta che faccio la spesa e lo farò dal prossimo video in poi appunto ma qui scoprirete quanto ho speso nell'ultima spesa quante volte ho detto spesa l'ultima l'ho pagata 76 euro e ne faccio circa 4 al mese sempre più o meno sui 70 euro la penultima ho controllato ed era di 70 euro o qualcosina in più quindi più o meno facendo un calcolo arrotondando più o meno siamo sui 300 euro al mese di spesa ci sono spesso offerte molto molto convenienti per chi fa la card del supermercato quindi se siete qui vi consiglio assolutamente di fare la card è gratuita ma gli sconti e i prodotti gratis sono molti e questa è una cosa che in Italia non c'era mai prodotti gratis qui è una cosa che succede quasi ad ogni spesa mi viene regalato qualche prodotto gratuito di solito sono prodotti nuovi appena usciti che vogliono far provare ai clienti poi altra cosa da tenere in considerazione è che in Italia rappresenta una vera e propria spesa per le famiglie si tratta degli spostamenti quindi macchina, bollo, benzina eccetera eccetera quindi tutte queste spese che potrei avere in Italia qui non le ho perché abitando in centrisimo ed essendo Amsterdam una città nonostante sia una grande capitale cioè nonostante sia una capitale europea non è comunque molto estesa come città e si ha un po' la sensazione di vivere in un villaggio ed è proprio per questo che mi piace molto poche macchine appunto mi sembra di abitare in un paesino invece sono in una grande capitale ma qui mi muovo soltanto a piedi io abito nel centro più centro di Amsterdam sui canali nella zona più bella della città e qui ho tutto veramente a portata di mano cioè è tutto praticamente vicinissimo a casa mia quindi vado assolutamente a piedi oppure uso la bicicletta ma molto spesso ci metterei più tempo ad andare in garage togliere la bicicletta dai lucchetti eccetera e mettermi in strada faccio prima di andare a piedi quindi appunto o vado a piedi o vado in bicicletta entrambe le cose sono completamente gratuite quindi per quanto riguarda questo non pago assolutamente niente e non spendere nulla ad Amsterdam per gli spostamenti è una cosa normalissima nessuno qui utilizza la macchina sarebbe molto scomodo spostarsi in macchina ad Amsterdam chi ha la macchina qui la usa soltanto per tratte molto più lunghe o se deve andare in viaggio o in qualche altra città ma anche lì qui ci si sposta molto con il treno che è super super efficiente quindi veramente la macchina qui si utilizza molto 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 poco tra l'altro ho sentito che dal 2035 sarà vietato entrare nei centri abitati delle città di tutte le città olandesi se non sbaglio non solo Amsterdam senza una macchina elettrica quindi dal 2035 qui si potrà entrare appunto solo con macchine elettriche a volte devo dire ma succede raramente se proprio fa freddo ma per adesso ancora non è successo quest'anno mi fa ancora molto caldo global warming is real prendo uber quindi chiamo un uber ma è un costo che non posso calcolare perché per esempio tipo questo mese non ho preso neanche un uber quindi in realtà non ha senso inserirlo se mi capita a volte appunto utilizzo uber ma non è un costo fisso altro costo che devo inserire mensilmente perché comunque è un costo praticamente fisso per quanto mi riguarda sono gli ordini da house besorgd uber eats o deliveroo house besorgd sarebbe in olandese tipo il nostro just eat io di solito utilizzo o uber eats o deliveroo qui è difficile calcolare perché ovviamente non c'è un costo fisso esatto mensile ma ordino spesso quindi secondo me sui 200 euro mensili diciamo ci siamo sicuramente da calcolare qui voglio farvi notare quanto costa una margherita qui ad Amsterdam se da noi costa 5 euro 6 euro ok qui almeno a trieste qui costa 15 euro mi fa ridere moltissimo questa cosa ma qui il cibo italiano è considerato ovviamente cibo straniero e quindi specialità straniera e quindi hanno un costo molto più alto tutte le pizze arriviamo appunto partiamo dai 15 per una margherita ai 28 30 euro per le pizze più elaborate con molti più ingredienti ingredienti e anche per quanto riguarda i dolci qui è tutto molto più caro per esempio un tiramisù se in italia posso pagarlo 3 euro e 50 4 euro e 50 qui costa sui 9 euro 7 10 12 euro quindi sì anche per quanto riguarda i dolci è tutto molto più caro e stessa cosa anche per gli altri ristoranti il sushi è leggermente più caro rispetto all'italia non di tantissimo ma un pochino più caro stessa cosa il cinese ed altre cucine appunto è un pochino più caro rispetto all'italia e appunto più o meno quello che spendo mensilmente diciamo sui 200 euro e poi arriviamo all'affitto quanto spendo di affitto al mese domanda gettonatissima come sapete io ho una casa mia di proprietà in italia che affitto a mia volta e quindi qui per il momento sono in affitto anche se sto un attimino pensando se acquistare dove acquistare perché non voglio restare in affitto a vita non ha senso secondo me non è assolutamente un buon investimento quindi appunto pur avendo già una mia casa di proprietà che affitto ad altre persone sto comunque pensando di prenderne di acquistarne una anche qui ad amsterdam ma per il momento sono in affitto e quello che spendo di affitto è 2700 euro al mese fino in realtà a questo mese dicembre ne spendo 2150 ma mi è stato aumentato l'affitto tantissimo e non solo a me a tutte le persone che conosco a causa dell'inflazione quindi da 2150 vado a spendere da dicembre prossimo che mi scade il contratto 2700 ed ho dovuto anche contrattare ma come sapete questo prezzo è molto alto perché io abito in centro ad amsterdam non solo in centro ma in uno dei quartieri più belli residenziali più costosi più tranquilli anche della città e nel mio condominio c'è una piscina la sauna ed il solario vabbè il solario non lo uso mai però appunto c'è una piscina quindi abbiamo tanti servizi in più ho il garage e quindi appunto tutto ciò contribuisce ad aumentare di tantissimo il prezzo abbiamo un portiere anche se vabbè sul portiere potrei dire un sacco di cose non siamo molto contenti ma appunto per farvi capire che non necessariamente se volete venire ad abitare in centro ad amsterdam spenderete una cifra del genere ma io per l'appartamento che comunque a 100 metri quadri appunto questo è quello che spendo il mio appartamento l'avete visto vi ho fatto l'home tour ma per riassumere ho un soggiorno parecchio grande e due stanze da letto ed abito in un residence di lusso quindi appunto non necessariamente dovete pagare questa cifra però è vero e pur vero che gli affitti ad amsterdam sono aumentati tantissimo io ho poi un fondo di investimenti e un'assicurazione particolare sui beni che non menzionerò per motivi di privacy però teoricamente dovrei calcolare anche questo come costo ma in realtà non necessariamente un costo che dovete avere se venite ad abitare qui non dovete per forza assicurare le vostre cose e non dovete per forza avere un fondo di investimenti come me quindi questi sono più o meno spero di non aver dimenticato nulla se mi verrà in mente qualcos'altro ve lo scrivo nella descrizione del video ma appunto mi sembra di avervi menzionato tutto quanto e questo è il totale di quello che spendo al mese ad amsterdam che calcolando il totale sono 3774 euro non ho calcolato i decimali perché insomma questa è comunque una cifra indicativa non è sempre uguale identica perché appunto alcuni costi sono fissi altri invece variano un pochino a seconda unica cosa che non ho inserito mi rendo conto in questo momento e ci vado più o meno ogni tre settimane quindi in realtà sarebbe un costo mensile che è di 45 euro e sono le unghie mi sono resa conto in questo momento che è giusto inserirle e sono io faccio la ricostruzione con l'acrilico che appunto mi costa 45 euro per un refill quindi aggiungendo anche il costo delle unghie siamo a 3819 euro mensili quindi questo è quanto ragazzi per il video di oggi spero che vi sia piaciuto che vi sia stato utile perché appunto mi chiedete spessissimo informazioni sulla vita e i costi ad amsterdam e quindi appunto se avete domande fatemi sapere lasciatemele nei commenti le leggo sempre sempre tutte 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 io vi mando un bacio grandissimo mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete like ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e adesso siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto domani alle 17.30 con un nuovo video qua su youtube ciao grazie a tutti grazie a tutti